Oggi assaggiamo questa IPA del birrificio italiano White Hog Vediamo subito la scheda tecnica di questa birra Allora il birrificio in questione è appunto White Hog, un birrificio italiano, si trova a Lecco La birra è una Stremisi, che è una IPA, una IPA, da 6,8 gradi Il prezzo di questa birra non ve lo so dire perché l'avevo acquistata su un cartone promozionale con altre birre da parte di un rivenditore Quindi al momento non so esattamente il costo, non l'ho trovata sui principali birshop online che consulto a volte Si tratta infatti di un primo assaggio, non ho mai assaggiato questa birra E il bicchiere che vi suggerisco è appunto per le IPA una pinta, o pinta inglese o pinta americana Allora vediamo subito la bottiglia di questa birra Sul tappo non c'è alcun logo, il tappo è nero Nella parte inferiore c'è un'etichetta molto minimal con White Hog Quindi il loro logo che appunto, come suggerisce il nome, è un suino magnale bianco Disegnato con dei semplici poligoni Il nome della birra è Stremisi Che penso si tratti di dialetto laghe, essendo le chesi i produttori La parola, ho fatto una piccola ricerca E non essendo di quelle zone, ma del sud milanese Penso si rifaccia al Sguignastremirsi, italianizzandola, quindi a spaventarsi Quindi sarà una birra che in qualche modo, per qualche motivo dovrà far paura Non lo so, ora lo scopriremo India Pele è 6 gradi, consiglia come temperatura di servizio tra i 7 e i 10 gradi Riporta anche il libu, quindi il livello appunto di amarezza di questa birra C'è una piccola descrizione sul lato, la data di scadenza Non c'è la data di imbottigliamento in questo caso Appunto è stata prodotta galbiatele, ecco Ok, vediamo quindi questa birra Attenzione, c'è un pochino di piccolo, piccolo gushing Probabilmente perché l'ho appena appoggiata qui e l'ho portata a mano e fatto un pochino di strada Vertiamola subito e vediamo È una birra ovviamente rifermentata in bottiglia Quindi i lieviti continuano a lavorare e a mangiare gli zuccheri che vengono messi prima dell'imbottigliamento La rifermentazione in bottiglia è una tecnica spesso utilizzata appunto Per continuare a far lavorare questa birra Ci sono diverse tipologie di diversi modi con cui si può fare la rifermentazione in bottiglia Solitamente vengono aggiunti carboidrati tipicamente zucchero In qualche caso viene aggiunto miele o melassa O comunque si aggiungono dei carboidrati o degli zuccheri semplici In modo tale che il lievito che solitamente è rimasto Perché nelle birre soprattutto se non sono artigionali Quindi non sono, si presuppone, non sono state né pastorizzate Quindi la pastorizzazione uccide lieviti Né microfiltrate Quindi in modo tale da trattenere tutte le cellule di lievito Anche se la birra ha fatto un bellissimo deposito L'impianto di fermentazione è il migliore del mondo Quando comunque, soprattutto nelle alte fermentazioni, del residuo può rimanere in sospensione Ebbene quel poco o tanto lievito che resta all'interno della birra E che non è ancora completamente esausto Se non andiamo ancora da mangiare al lievito Allora parte una seconda fermentazione E infatti viene imbottigliato questa birra Prima che parta questa seconda rifermentazione Questo qui permette di avere una buona frizzantezza E comunque permette ancora alla birra di evolversi E maturare ancora di più Vediamo un po' quindi questa birra Una schiuma abbastanza irregolare Di un bel bianco, molto soffice Abbastanza, abbastanza compatta La birra è un bel colore, direi, giallo paglierino Con dei riflessi più chiari Molto brillante E mi sembra anche abbastanza, abbastanza limpida L'intensità olfattiva al naso non è elevatissima Ci sono comunque però tutte le caratteristiche tipiche di questo stile delle IPA Non c'è un eccesso È la cosa che noto subito Nelle IPA non c'è un eccesso di lupoli verso il fruttato Mentre invece arriva subito il lupolo classico di questo stile Quindi un lupolo abbastanza resinoso Principalmente c'è solo questo È molto molto pulito come profumo E è molto Su questo tipo di lupolo Forse c'è leggermente qualcosa di agrumato Ma comunque molto molto leggero Non c'è un agrume che copre gli altri lupoli O non c'è un eccessivo profumo fruttato Che in molte IPA Boh, secondo me è discutibile perlomeno Allora anche in bocca appunto Un'IPA abbastanza classica Molto buona devo dire Si sente un'apertura maltata Non eccessivamente maltata Quindi è molto molto leggero Il malto iniziale è subito seguito da un buon lupolo E quindi un buon sapore amaro Devo dire che anche come corpo è abbastanza leggera L'equilibrio è buono Ma più spostato verso l'amaro sicuramente In questo caso C'è una persistenza non Direi quasi nulla del malto Come deve essere appunto in questo stile Mentre invece c'è una buona persistenza Del lupolo amaricante Che resta in bocca e continua appunto A farsi sentire anche adesso Anche diversi secondi dopo la bevuta Anche il corpo appunto è Abbastanza leggero È una buona frizzantezza Quindi devo dire che Tutto sommato è È una buona scoperta Questa IPA Rientra perfettamente Nei canoni appunto Della IPA Con un alcol 6,8 Quindi siamo Diciamo Verso la fascia un po' più alta Ma Al di là del valore numerico Quello che poi Interessa sempre vedere È quanto sentiamo Questo alcol in bocca Si sente poco Quindi vuol dire Un alcol ben nascosto È quasi sempre Sinonimo di Una birra Di una buona Di una buona qualità Infatti in questo caso Non si avverte Quasi Quasi per nulla L'etilico Di questa birra Quindi devo dire Un buon Un buon assaggio È stato un primo assaggio E sono sicuramente soddisfatto Di quello che abbiamo bevuto Una IPA molto classica Ma direi Mi piace perché È molto diretta Ed è esattamente Quello che io mi aspetto Da una IPA Senza troppi Fronzoli Senza troppi dolcioni A inizio bevuta O senza quei Profumi Fruttati Esagerati Che poco Hanno a che fare Con uno stile Invece così Così classico Scalo Grazie a tutti